Azioni condivise e concertate mirate all'orientamento, la formazione e l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani residenti nel comune di Fano, anche non cittadini italiani, di età compresa tra i 16 e i 35 anni. Con queste finalità e viste le crescenti difficoltà che incontrano i giovani nell'immettersi nel mondo lavorativo, è stato stipulato questa mattina nella Memoteca Montanari, sede tra l'altro del punto di contatto del progetto Dedalo, tra il comune di Fano e la provincia di Pesaro Urbino, un protocollo di intesa per creare un sistema di interscambio di informazioni, nozioni, azioni e possibilità di occupazione delle giovani leve nel mondo del lavoro. Non è un doppione del centro dell'impiego, ha sottolineato l'assessore Caterina Delbianco, ma un ulteriore punto di supporto per chi vuole orientarsi o conoscere cosa offre la provincia di Pesaro Urbino. Io approfitto delle telecamere per rinnovare l'invito per chi è disoccupato, chi cerca il lavoro all'interno della Memo. Nella sala M5 al piano terra è presente una bacheca che si può consultare in ogni momento e due pomeriggi e una mattina le operatrici offrono un servizio tu per tu che può aiutare a crescere e ad avere un buon curriculum per essere attivi nella ricerca del lavoro. Si va dal supporto per compilare correttamente un curriculum vitae europeo ai requisiti necessari per una certa occupazione, ai corsi di formazione inerenti e tutte le informative relative alle iniziative, non solo della provincia ma anche della regione, statale, ai bandi e agli scambi europei, tirocini formativi in agenzia ed eventi promossi al centro dell'impiego, una vera rete informatica a disposizione dell'utente. Fano sta diventando un centro di riferimento importante per tutto quello che è occupabilità e visione anche innovativa di queste sinergie tra amministrazioni pubbliche. Noi dobbiamo solo ed esclusivamente supportare questo tipo di azione perché i risultati si stanno già vedendo.